Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1, in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico. Sempre verso Bologna, corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Badia e Firenzuola, in direzione Roma. Per le statali, sull'Aurelia, tratto chiuso per lavori tra Stagno e la variante di Quercianella, in direzione Sud. Chiusi anche gli svincoli di Livorno Centro e di Portaterra, sempre in direzione Sud. Tratto chiuso per lavori anche tra Donoratico e Cecina Centro, in direzione Nord, chiuso anche lo svincolo di Cecina Sud. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!